residenti, commercianti, questi senza timbro sono tutti residenti, questi col timbro sono tutte attività commerciali, senza timbro residenti. Centinaia di firme raccolte a fine agosto che potrebbero diventare migliaia da settembre. Dopo i circa 1500 autografi di via del Santo, eccone molti altri che dicono no alla ZTL in centro oltre le 20. L'esperimento voluto dal vice sindaco Lorenzoni è combattuto da gran parte di residenti e commercianti. Si domandano che cosa gli è saltato in mente, lui con questo di fatto, con questa ordinanza disertifica il centro storico in maniera tale che non entra più nessuno, cioè diventa così difficile accedere alla nostra città che la gente va fuori, è più facile, non viene più nessuno, la ZTL fino a tardi e non ci sono parcheggi, cioè veramente non c'è più nessuno. Queste cose che lui fa per Padova sono proprio, vanno nell'indirizzo contrario di quello che è l'aspettativa del commercio. Troppe restrizioni, la gente non viene più in centro, andando avanti così al posto dei negozi aumenteranno le banche e i garage, ripete da tempo la Pellizzari. Tutta la città, dice, è contro i provvedimenti che desertificano il centro storico. Questo centro commerciale che è stato sempre considerato la spina dorsale dell'economia padovana sta ai noi morendo. Le cause sono molte, ma credo che questa amministrazione ci stia mettendo del suo perché tutto questo avvenga e noi non lo permetteremo mai.